Eccoci, eccoci, bentornati tutti, bentornati a Siamo Noi e buon pomeriggio. Allora, in diverse regioni d'Italia è di nuovo allarme sul fronte dei servizi sanitari. All'ormai cronica lunghezza delle liste d'attesa per gli esami diagnostici, per le visite, si è aggiunta in queste ultime settimane l'evidente difficoltà nei servizi d'emergenza e del pronto soccorso. Nello stesso tempo però è arrivata la firma da parte del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni dell'elenco dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Che cosa sono? Sono quei servizi di cura e di assistenza che tutte le regioni, come minimo, devono garantire. Sulla carta si tratta indubbiamente di un miglioramento atteso da tempo che dovrebbe offrire più assistenza sanitaria a tutti, ma anche su queste novità ci sono delle criticità e delle polemiche. Non da poco, Gabriella. Sì, sì, insomma, ce n'è abbastanza per tornare ad occuparci oggi di sanità. Lo facciamo con i nostri ospiti che mi affretto a presentarvi. Ben arrivato Guglielmo Pepe, collega, giornalista, fondatore di Salute per il Quotidiano La Repubblica. Ben arrivato. Benvenuto Guido Coentirelli, segretario regionale dell'Associazione dei Medici Ospedalieri Anao Assomed, primario Ottorino all'ospedale Santo Eugenio di Roma. Ben arrivato. Grazie. Ben arrivato anche Valeria Fava del Tribunale dei Diritti del Malato e Francesco Buono in rappresentanza dei Medici di Base, dirigente, buon pomeriggio, della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Allora, prima di ascoltare i nostri ospiti, però Gabriella, andiamo in un posto che io conosco in ogni suo angolo più intimo. Pure noi, perché ce lo porti ogni giorno qui dentro. Andiamo all'ospedale Cardarelli, dove si trova il nostro Vito Dettore. Andiamo insomma a Napoli, perché lì nel capoluogo partenopeo, come del resto a Roma, in questi giorni si sono registrati dei problemini sui quali vogliamo incominciare a ragionare. A te Vito. Ben arrivato. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Napoli. Accanto a me il dottor Galano, che è responsabile della sala operativa del 118 dell'ospedale Cardarelli, sala operativa all'interno della quale ci troviamo. Buon pomeriggio, dottore. Anche a voi. E allora diceva giustamente il condottore Massimiliano Niccoli, c'è un problema a Napoli, ma è un problema come dire che possiamo estendere un po' a tutte le città d'Italia. Il problema delle barelle. Cioè che cosa accade? L'ambulanza viene chiamata dall'utente, dal paziente, il paziente poi viene trasportato al pronto soccorso, in questo caso al Cardarelli, viene trasportato sulla barella all'interno del pronto soccorso e poi, non essendoci posti letti immediati, rimane lì anche 12 ore. L'ambulanza però è ferma. Sì, è ferma. Rimane sul piazzale. Rimane sul piazzale. Purtroppo il problema è questo, è un problema ormai noto a tutti. I pronto soccorso in questo momento sono stati presi d'assalto dalla cittadinanza per varie problematiche legate all'influenza, che è un problema stagionale, ma anche legato ad altre problematiche, altre patologie. Noi inviamo l'ambulanza di soccorso, preleva il paziente, l'ammalato, lo porta, come ha detto lei, in pronto soccorso e lì la lettiga viene materialmente sequestrata per fare tutto l'iter diagnostico, perché il pronto soccorso, che è ormai oberato, non riesce a liberarla e quindi a questo punto l'ambulanza, senza autolettiga, non può circolare. Dottore, le faccio un caso proprio semplice, semplice, così riusciamo a spiegarlo bene a tutti i nostri telespettatori. Chiamo perché ho un forte mal di pancia, probabilmente una banalissima indigestione, nessuno lo sa. Arriva l'ambulanza e io vengo trasportato a pronto soccorso, vengo curato sulla barella, vengo trasportato in questo modo, per 12 ore, per un semplice mal di pancia, rimane ferma un'ambulanza, può accadere questo o è un caso assurdo, ipotetico? No, è un caso estremo, per noi 12 ore è un caso estremo, l'ambulanza dovrebbe avere un rilascio dell'automezzo dopo circa 30 minuti, massimo, massimo 40 minuti. Rimane anche 12 ore quando il pronto soccorso non ce la fa a smaltire questa affluenza e quindi lei viene utilizzata l'autolettiga per fare tutto l'iter di agnosico, quindi viene portato in radiologia, poi viene visitato... Con l'ecografia, tutto con la barella dell'ambulanza. Ecco, perché non ci sono barelle sul posto, le barelle si esauriscono. Allora, non è tutto dall'ospedale Cardarelli perché poi vogliamo capire come sono queste ambulanze, quali sono le dotazioni, ma insomma questa è la situazione con le ambulanze ferme e le barelle in ospedale. A voi. Grazie Vito, torneremo a restituirvi naturalmente la linea. Allora, dottor Cohen, abbiamo sentito quello che il dottor Galano del Cardarelli raccontava al nostro inviato, lettighe letteralmente in ostaggio negli ospedali con i pazienti che di fatto restano ricoverati su queste lettighe per carenza di posti in riparto e poi tutto il circuito che si blocca perché poi quelle ambulanze restano parcheggiate addirittura per 12 ore. Quella è la realtà di Napoli, vorrei capire cosa succede altrove, sembra una follia. Allora, è sicuramente una follia, ma bisogna andare a monte del perché succede questo. Succede questo perché mancano i letti per i pazienti che arrivano nelle pronti soccorsi e hanno bisogno di assistenza. Sarebbe sufficiente che a monte del pronto soccorso ci fossero maggiori posti letto per sistemare i pazienti che stazionano al pronto soccorso e che già sono stati triaggiati e già... Quindi più letti. Più letti, il problema è che... Ma ci sono letto che sono stati oggetto di tagli severi in questi ultimi anni. Noi abbiamo avuto per colpa di una scellerata, io dico, ideazione, la riduzione meccanica, aritmetica, dei posti letto a 3 per acuti per 1000 abitanti. 3, non è 3,7. 3,7 lineari, diciamo così. In alcune regioni abbiamo ridotto più del 50% i posti letto, pertanto abbiamo una situazione nella quale i posti letto sono estremamente carenti. In più, c'è da notare che con la riduzione dei posti letto si doveva attivare una serie di procedure per le quali il paziente non doveva arrivare al pronto soccorso perché l'assistenza territoriale doveva essere attivata e messa in rete. Ecco, prima... Questo è il secondo tema. Allora, se tu non mi fai... Questo tema lo affrontiamo a breve. Terza cosa, i posti letto sono pochi perché spesso nel computo dei posti letto ci sono una serie di posti letto privati convenzionati che non rientrano nel... L'intramenia? No, 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 no. Privati convenzionati, ospedali privati convenzionati che non avendo l'accesso diretto da pronto soccorso hanno il numero di posti letto, fa parte del monte generale di posti letto. Quindi c'è un computo generale. Però non sono utilizzabili per l'emergenza. Per cui per l'emergenza vengono utilizzati i posti letto degli ospedali pubblici dove c'è un pronto soccorso. Ecco, è stato chiarissimo. Ora stiamo vedendo questo titolo del messaggero, pronto soccorso in tilt, ferme 40 ambulanze. Qui si guarda la situazione naturalmente di Roma. Io vorrei tornare a capire se questa è una realtà, diciamo, trasversalmente condivisa in tutta Italia o se ci sono delle regioni che, insomma, annaspano nell'emergenza, che, insomma, risentono i maggiori disagi. Le regioni dove abbiamo il piano di rientro, io direi di fare un, in generale, il piano di rientro, stanno in gravissime difficoltà perché sono almeno, Lazio per esempio, sono otto anni che è in piano di rientro, per cui abbiamo avuto una riduzione delle risorse perché non possiamo sforare in nessun modo. Gestite come sono gestite, adesso non voglio dire male o bene, ma sono gestite. E il personale è pure molto sceso perché nel Lazio abbiamo perso 6.800 lavoratori e non sono stati rimpiazzati. Un carico di ore che è un peso considerevole. Perfetto, per cui lei deve calcolare che il personale che lavora all'interno degli ospedali, non solo medici, infermieri, e tutto il personale che lavora all'interno della struttura, è stressatissimo perché fa dei turni massacranti e spesso e volentieri sono al limite della sopportazione. In più c'è da notare che è uscita una sentenza europea per la quale l'Italia è stata messa in mora, per cui ci sono delle regole che sono molto più precise e stringenti per i riposi. Per cui noi nel Lazio ci troviamo, perché parlo del Lazio, ma nelle regioni di solito in piano di rientro, ci troviamo a dover supplire anche alla mancanza di personale che serve per ripristinare i turni di riposo. Una situazione paradossale. La cosa incredibile che qui mi pare di capire, perché voglio dire, io lo dicevo prima, faccio il colonista da qualche decennio, diciamo così, che le barelle siano presenti in ospedale, nelle corsie, è da sempre così. Qui mi sembra che siamo davanti a un salto di qualità, addirittura si tiene ferma persino l'ambulanza, cara cara fava, ma mi sembra una follia davvero purissima. Credo che giustamente poi chi ricorre alle cure sanitarie chiama voi per dire guardate che qui non funziona nulla. Quante ne avete di denunce simili? Allora, noi ogni anno ridigiamo un rapporto annuale con le segnalazioni dei cittadini. Il tema del pronto soccorso quest'anno ha subito un'impennata davvero importante. Sono soprattutto le attese al pronto soccorso ad essere vissute come particolarmente stressanti, ovviamente, oltre che in alcuni casi addirittura pericolose, chiaramente, per i pazienti. Oltre a problemi più legati al comfort, abbiamo visto anche ultimamente il caso di Nola, in cui i pazienti si sono ritrovati per terra. Scriati sul pavimento. Abbiamo lanciato un comunicato in cui abbiamo lanciato anche la provocazione. Prima o poi i pazienti dovranno portarsi anche il letto da casa, se questa è la situazione. Sono molto d'accordo. Potrebbe essere un'idea, diciamo così. Potrebbe essere un'idea. Potremmo risolvere in questo modo. Chiaramente è una provocazione. Sono molto d'accordo con quanto ha anticipato il dottor Cohen. Siamo di fronte ad un problema in cui si gestisce con molta difficoltà l'accesso dei cittadini, perché sicuramente siamo di fronte a dei tagli dei posti letto, del personale sanitario che si trova sicuramente affannato e sicuramente ad un mancato contemporaneo adeguamento di quella che è l'assistenza primaria, cioè quindi della medicina territoriale. Il filtro, no? Esatto. Per impedire di accedere poi al pronto soccorso. Su quel filtro adesso cercheremo di accendere i riflettori. Guglielmo, insomma, stiamo fotografando una sanità in evidente affanno. Poi abbiamo sentito, insomma, quel riferimento a quelle immagini di Nola, che ci hanno consegnato delle immagini che hanno colpito queste persone sdraiate, i medici inginocchiati che, insomma, prestavano assistenza. Allora, la sanità italiana è sempre stata un esempio di eccellenza. Sotto diversi aspetti possiamo anche dire che lo è ancora. Ma come mai, a fronte di questo problema enorme, no? Abbiamo detto i piani di rientro, la mancanza di posti letto, questa questione non viene affrontata, e non viene affrontata, insomma, con uno sguardo che guarda lontano? Viene affrontata, ma viene affrontata male. Legandomi a quello che diceva il dottor Conno, ho portato qualche numero. Quell'immagine di Nola, insomma, hanno fatto scalpore. No, quell'immagine di Nola determina fotograficamente, anzi poi c'era anche qualche video, il fallimento della sanità italiana. Poi uno può anche dire, vabbè, ma quello è Nola, quello è il sud, dove c'è una situazione. Purtroppo non è così. A Roma stiamo vivendo una situazione molto analoga. In Italia c'è... È anche curioso prendersela con i medici, eh? No, no, adesso poi arriviamo ai medici. In Italia c'è una sanità macchia di leopardo, dove hai delle regioni che funzionano molto bene, altre che funzionano molto male. La macchia di leopardo, però, ce l'hai anche all'interno dello stesso territorio, perché a Roma hai delle strutture sanitarie che funzionano molto bene e altre che funzionano male. Andando però, scusate, ai numeri sui posti letto, e quindi così forse arriviamo a capire i dati della Banca Mondiale che si riferiscono al 2011 rispetto a quello che... Noi abbiamo il 3.4 di posti letto per mila abitanti. In Francia hanno il 6.4, in Germania l'8.2, significa che in Francia hanno l'88% in più di posti letto, in Germania addirittura il 240% in più di posti letto. Dal 2000 ad oggi sono stati tagliati oltre 50.000 posti letto. Negli ultimi 5 anni 25.000. Questo significa che siamo di fronte a una politica dissennata di tutti i governi... C'è qualche segnale di inversione di tendenza? Perlomeno per questa questione poi vedremo le altre dei posti letto. No, assolutamente no. No, anche perché il Fondo Sanitario Nazionale purtroppo è al palo. La politica degli ultimi anni, che non riguarda soltanto questo governo, ma riguarda tutti i governi che ci hanno preceduto, questo... Poi magari hai qualche governatore più bravo degli altri, qualche assessore regionale più bravo degli altri, qualche situazione in cui ci si rimbocca di più le maniche... Vabbè, ci può stare tutto quanto. La sostanza è quella. E non c'è un'inversione di tendenza perché non si investe più in sanità. Purtroppo si investe di meno. Adesso il Fondo Sanitario Nazionale passa da 112, dopo dettagli, a 113 miliardi, ma questo miliardo in più è già bloccato con i nuovi LEA. Per cui tu hai un problema strutturale sul quale non si capisce che intervenire è fondamentale non solo dal punto di vista dell'interesse del paziente e dei malati, ma della salute pubblica nella sua complessità e quindi dell'economia di tutta la società italiana. Perché si guarda sempre alla sanità o alla salute come una spesa. Invece è un investimento, è un investimento sul futuro. Questo i nostri governanti purtroppo... Un paese che invecchia probabilmente. No, perché ragiono sul day by day e fanno una cosa adesso per avere un ricavato domani, politico probabilmente. E elettorale, non c'è dubbio. Io voglio coinvolgere però i medici di base, quindi il dottor Buono. No, perché noi prima abbiamo parlato di filtri. Quindi evitare di intasare il pronto soccorso. E questo ruolo lo assume, lo assume la sua categoria. C'è questo filtro o non c'è? Intanto il termine filtro non mi trova particolarmente d'accordo se è visto come tale. Mentre invece quella che è la riappropriazione del bacino d'utenza, della medicina generale, quindi il dispiegamento di tutte le capacità che essa ha di intercettazione dei bisogni e di risoluzione, spesso, di tali piccoli bisogni, dei cittadini, determina come effetto collaterale, una volta tanto positivo, visto che siamo abituati a parlare di effetti collaterali, no? Come cosa negativa, come effetto collaterale positivo, quello lì di una diminuzione degli accessi. Quindi da questo punto di vista la piena realizzazione dei nostri compiti nei fatti determina un afflusso più appropriato. Vedevamo qui in questi filmati il problema dell'influenza. L'influenza si cura, salvo rare eccezioni, nel territorio. Non è l'ospedale, non è il pronto soccorso. Non lo diremo mai abbastanza. Il rapporto di fiducia con l'assistito e che esercita nel suo studio da una certa ora a una tal altra ora, subentra poi, e oggi siamo intorno al 90% dei medici, associazioni che in tutto l'arco diurno assicurano l'assistenza, ma questo deve essere portato più a conoscenza. Certo, e qui c'è un problema enorme di comunicazione, qui cercheremo di ovviare oggi, qui dando delle informazioni sempre più precise. C'è il motivo per cui poi la gente si rivolge agli ospedali, perché c'è poca informazione, è buono. Beh, se la persona non trova alternative, perché non è a conoscenza di questa alternativa, allora si rivolge per questo. Non è solo questo, perché se uno segue il dibattito che c'è stato proprio in questi giorni, relativamente all'intasamento del pronto soccorso, il caso Nola, molti ospedalieri accusano proprio i medici di base, il fatto di non farsi carico a monte di problemi piccoli che hanno i malati, i malati si sentono poco garantiti e poi si rivolgono. Adesso sentiremo su questo. Allora, chi istituisce le autorità regolatorie e politiche che istituiscono certe forme aggregative, in particolare le unità di cura, dovrebbe avere l'onere di far conoscere alla popolazione la loro esistenza. Il medico di famiglia nel suo studio affigge manifesti e spesso informa tramite segreteria telefonica quali sono gli orari globali di apertura dello studio. Ma lei sa meglio di me che i medici di famiglia sono anche loro oberati di lavoro? Oberati, infatti questo volevo dire. Sì, proprio per questo sono associati. Io frequento il mio medico di famiglia e devo dire che il tempo che dedica le persone quando siamo lì seduti è veramente qualcosa. No, è evidente che tutto questo non è sufficiente e che c'è una falla che va in qualche modo risolta, perché poi ci sono anche gli ambulatori, lo vedremo tra poco, di cure primarie che funzionano nel weekend. Questa è una notizia importante e utile da maneggiare. Sentiremo poi poi che cosa pensa del servizio reso a breve dai medici di base. Nel frattempo vogliamo coinvolgervi subito così che possiate gettare sul tavolo tutte le domande, tutti i dubbi. Simone, a te. Sì, oggi vi chiediamo di segnalarci i casi di malfunzionamento delle strutture ospedaliere. Allora fateci sapere se anche voi avete dovuto sopportare le interminabili code al pronto soccorso, raccontateci che cosa vi è successo, ma infine diteci anche se a vostro avviso la sanità pubblica è in grado di fronteggiare la concorrenza, se così la vogliamo chiamare, delle strutture private. Insomma, come sempre potete dire la vostra all'800 22 88 96 oppure potete mandare una mail a siamo noi chiocciola tv2000.it. Potete scrivere un commento sulla nostra pagina Facebook e vi ricordo che potete anche seguirci su Twitter attraverso il nostro profilo Chiocciola Siamo Noi TV2000. Ti aspettiamo. Bene Simone, allora dottoressa Fava, mi sembra di capire che tra sanità pubblica e sanità privata sia nata una sorta di competizione quasi da derby. Ma è vero che i costi della sanità pubblica, i costi per i cittadini non sono più così convenienti come un tempo guardando alla sanità privata? Io ricordo il ticket qui nel Lazio per esempio, c'è gente che non andava più negli ospedali a farsi le analisi, andava a pagamento perché costava di meno. Adesso forse le cose sono cambiate. No, non penso siano cambiate. Purtroppo rimane così perché dall'introduzione del super ticket dal 2011 purtroppo tutta l'Italia ha vissuto questo problema. Ovvero i ticket sono aumentati moltissimo, le regioni si sono regolate anche in maniera differente. Quindi si crea anche un grosso problema di difformità territoriali molto importanti. Ma quindi è vero che la sanità privata a volte costa meno di quella pubblica? Bisogna fare un distinguo per non dare anche informazioni errate e spingere noi stessi verso il privato. Sicuramente alcune prestazioni sono concorrenziali, quindi quelle diciamo un po' più a basso costo. Quindi tutta l'area dell'analisi di laboratorio, come le ecografie, come magari le lastre, l'elettrocardiogramma, sicuramente nel servizio privato hanno un prezzo concorrenziale rispetto al pubblico. Proprio in virtù di questa introduzione di un ulteriore ticket che è il super ticket. Peraltro i nuovilei prevedono probabilmente un ulteriore aggravio anche sui ticket. Ovviamente questo, se poi raffrontato il problema delle liste d'attesa, come sappiamo il nostro rapporto annuale lo evidenzia molto bene. Per avere delle visite specialistiche ci vogliono davvero dei mesi. È chiaro che se io posso averla dopo domani sotto casa, è chiaro che il cittadino fa un bilancio. Dei mesi quando fa bene, diciamo così. A volte si tratta di un anno e più. Guglielmo, dicevamo, c'è il temuto rincaro dei ticket, anche previsto adesso che è stato firmato il famoso documento, con i nuovi livelli essenziali di assistenza, i nuovi LEA. Io vorrei che tu non diamo mai niente. Proprio cittadinanza attiva ha quantificato. Prima di arrivare alla quantificazione, perché questo non diamo mai niente per scontato. Brevemente spieghiamo nei termini più chiari possibili che cosa sono i LEA al nostro pubblico e quali le novità principali che sono introdotte. Le novità sono tante. Le più significative. Mi viene in mente, per esempio, l'assistenza per la fecondazione. L'assistenza per la fecondazione è assistita, totalmente gratuita. Anche però, se devo dire, prima stavo leggendo un articolo interessante sul giornale che vi interessa, cioè sull'avvenire, sull'avvenire di oggi, perché metti in rilievo una cosa, che se aderisci, cioè se aderisci, se tu vuoi usufruire dei servizi essenziali di assistenza relativi, per esempio, all'eterologa, hai tutto quanto gratis. Se invece vuoi fare adozione internazionale, hai un costo da pagare. E questa mi sembra un'incongruenza. Non credo che Avvenire abbia applaudito questa cosa qui, insomma. Non mi sembra... No, no, no. Lo diceva in modo critico. No, no, sono totalmente d'accordo, per cui... Qui abbiamo fatto riferimento alla fecondazione. Ci sono poi i vaccini. Una delle novità più grandi riguarda appunto i vaccini. Però se non ho capito bene una cosa, non si capisce se siano raccomandati o obbligatori. No, le raccomandazioni rimangono quelle di sempre. Rimangono le raccomandazioni, ecco, appunto, quindi non è... Insomma, c'è qualcosa di... Sono diventati gratuiti, mentre prima non erano in ILEA, per quelli che sono entrati, alcuni si, alcuni si, alcuni, ma quelli che sono entrati sono... Questa è una delle novità, per quanto riguarda i vaccini. Poi invece ci sono altre cose che non sono state inserite. ILEA dovrebbero tutelare, diciamo, almeno il 90% della salute che interessa il cittadino. Secondo, anche quello che ha detto il Tribunale dei diritti del malato, non è così. Mancando poi i vostri letto, mi sembra che le cose essenziali restano fuori. Ma se i problemi strutturali sono sempre gli stessi, tu non puoi fare dei livelli essenziali di assistenza adeguati a tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale. Il problema dei LEA è che in Italia i LEA ogni 15 anni li mettiamo. In altri paesi del mondo, se va in Francia, ogni anno c'è una modifica di LEA. Cioè il discorso è che in questo paese siamo talmente impermiati di burocrazia, per cui non andiamo avanti. Se lei pensa che noi utilizziamo un sistema di codifica delle patologie negli ospedali, che è il DRG ICD9, che è di 25 anni fa, mentre tutto il mondo sta al 10, versione 15. Per cui stiamo avanti, ci sono dei paesi dove ogni anno rifanno tutte le patologie, mentre noi siamo fermi a 25 anni fa. Ci sono delle cose che noi non possiamo neanche... Posso fare una domanda? Ma secondo lei questa è solo una responsabilità politica? Cioè, sotto le governi, degli assessori, o è anche una responsabilità delle categorie? Nel senso che voi pensate, in quanto sindacati, soprattutto ai problemi sindacali, e non al funzionamento... No, no, non è così. Allora, lei ha pienamente ragione a porre il problema. Il discorso è che all'interno delle categorie medici, grande capitolo, ci sono talmente tante differenze, per cui non può fare di ogni erba un fascio. Noi ospedalieri sono otto anni che aspettiamo un contratto, e stiamo cercando in tutti i modi di fare un contratto. Non è possibile, non ce lo fanno fare, per farle capire. E cerchiamo di migliorare la qualità del servizio che noi diamo ai nostri cittadini, ma non abbiamo nessun potere di incidere in tutto ciò. Mi sembra esauriente. Però su Ilea mi pare di capire, perché io l'ho sentita quando Pepe diceva beh, hanno dato un miliardo in più quest'anno per coprire i propri nemici. Non basta, non basta, non basta, non basta. Per cui da una parte hanno fatto finta di darci un milione di euro in più, un miliardo in più. Dall'altra parte si è tolto il fondo. Dall'altra parte, l'autorizzazione di Lecce li hanno tolti, per cui eravamo a 112, erano pochi, chiedevamo di più, perché stavamo per arrivare a 111. Sì, sì, ma soprattutto questo miliardo è già bloccato, è già finalizzato. Eccoci, il quadro non è confortante. Andiamo un momento al Cardarelli, poi torniamo, perché vogliamo sentire parlare un po' di quello che si fa sul territorio con i medici di base. Vito! Eccoci, eccoci di nuovo in diretta dal Cardarelli di Napoli. Il dottore stava appunto affrontando la questione, sette ambulanze nel giro di sei minuti? No, diciamo, in circa dieci minuti sono arrivate quattro o cinque ambulanze al Cardarelli, quindi c'è un po' di trambusto, tra le altre cose hanno già manifestato la difficoltà, quindi adesso stavo verificando qual è il motivo perché erano arrivate qui al Cardarelli tutte queste ambulanze. Insomma, i problemi quotidiani all'interno di un grande ospedale di Napoli. A proposito di ambulanze, prima abbiamo parlato delle ambulanze ferme per colpa delle barelle, diciamo così. Che tipo di dotazioni hanno le ambulanze? Sono ambulanze nuove? Ma diciamo che noi abbiamo 17 ambulanze. Le ambulanze sono... Sembrano poche, ma rispettano i parametri prescritti dalla legge? Nel momento sì, rispettano il parametro di un'ambulanza ogni 60.000 abitanti. Diciamo che di massima è rispettato, forse qualcun'altra ci vorrebbe. Il problema è che in questo momento non tutti gli automezzi sono automezzi abbastanza nuovi o efficienti. Ci sono automezzi anche abbastanza obsoleti e vecchi. Quanti anni hanno? Almeno 6-7 anni qualcuno. Dopo 4 anni l'ambulanza dovrebbe essere dismessa? L'ambulanza dovrebbe essere dismessa dopo 4 anni. Stiamo rinnovando il parco macchine. Ci sono già ambulanze nuove. Devo dire che per la maggior parte fornite, perché noi abbiamo una convenzione con Croce Rossa Italiana, che ha fornito le 4 ambulanze con tutti i mezzi nuovi. Le ambulanze diciamo che sono in dotazione qui a Napoli. Hanno l'elettrocardiografo a bordo? Hanno la strumentazione GPS? O magari ci si rischia pure di perdersi in mezzo ai vicoli? Allora, l'elettrocardiografo non ce l'hanno. Tanto è vero che adesso, tra poco, entrerà in funzione la rete cardiologica, che sarebbe la trasmissione telematica dell'elettrocardiogramma fatto o al domicilio oppure in ambulanza. Quindi se è un infarto in corso non si può diagnosticare se non quando si arriva all'ospedale. Quindi tornando al mio vecchio mal di pancia, si saprà se ho il mal di pancia o qualcosa di più serio dopo il trasporto con l'ambulanza e quando si arriva all'ospedale? In questo momento, purtroppo, sì. Tra poco, siamo già in simulazione avanzata in provincia di Salerno e stiamo cominciando a Napoli, la cosiddetta trasmissione telematica del dato dell'elettrocardiogramma. Questo sarebbe un risparmio enorme a livello? Sarebbe un risparmio enorme perché si può fare diagnosi certa e quindi può inviare, se è il caso, l'ammalato nell'ospedale idoneo. Mi danno una pacca sulle spalle, dicevo solo un mal di pancia, resti a casa. E io speriamo di no. Fermo restando che io sono un sostenitore delle ambulanze con una dotazione medica perché in termini statistici abbiamo visto che circa il 30% di persone che chiedono soccorso di... Ma perché le ambulanze non hanno tutti quanti il dottore a bordo? No. Le nostre ambulanze hanno, nelle 17, 12 hanno il medico a bordo, le altre no. Sono un sostenitore... Speriamo di arrivare a tutte e 17 con i medici. Dottore la devo e la ringrazio, mi chiedono la linea, io la lascio al suo lavoro. Veramente grazie e buon lavoro. Grazie a te. E allora è tutto dall'ospedale Cardarelli a voi. Grazie, buon lavoro. Allora io sono un noto ipocondriaco, qui ormai lo sanno tutti, no dottoressa Fava, però sentendo quello che dicono da Napoli io mi auguro di stare sempre bene perché abbiamo ambulanze che non hanno gli strumenti necessari, non hanno il medico a bordo, qui mi sembra che un po' con la salute dei cittadini si stia giocando. Sì, siamo davvero in una situazione paradossale. Peraltro mi viene di collegare questo discorso con un altro tema che riguarda sempre gli standard ospedaliari. Sappiamo che molte strutture, piccoli ospedali sono stati chiusi così come sono stati chiusi quindi dei pronto soccorso. I cittadini ci segnalano questo problema di doversi regare a pronto soccorso di ospedali molto lontani e contemporaneamente non è stato potenziato l'ospedale di riferimento con nuove assunzioni o comunque con anche dotazioni strutturali adeguate. Perché anche là c'è stato del taglio poi dei piccoli ospedali. Esatto, giustamente. Giustamente, per una questione di sicurezza, ma contemporaneamente, ripeto, si doveva potenziare. Questo è un discorso importante. Questa coperta, insomma, è sempre cortissima. E potenziare anche i servizi per garantire le emergenze, l'elisoccorso, ad esempio. L'elettrocardiografo che manca, insomma. L'elettrocardiografo, cioè garantire che anche se il tragitto è più lungo e quindi più difficile raggiungere l'ospedale ci sia comunque la garanzia della sicurezza. Ma preferibilmente anche il medico a bordo sarebbe, insomma, l'ideale. Io vorrei tornare a quel, e coinvolgere anche poi lei, dottor Cohen, a quel servizio di presidio territoriale che viene svolto dai medici di base. Perché vorrei tornare a parlare delle UCP, perché poi gli acronimi spesso confondono le idee, le unità di cura primarie, che poi in alcune regioni sono anche degli ambulatori che funzionano nei weekend. Esatto. Allora, ci spieghi un po', ci dica un po' cosa sono, come funzionano. E visto che abbiamo premesso che ci sono dei problemi di comunicazione perché i cittadini non sono informati, ci dica anche dove ci si può informare, sapere esattamente dove li troviamo, insomma, tutto quello che può essere utile. Abbiamo parlato di acronimi, gli acronimi sono UCP e ACP. Allora, UCP, le unità di cure primarie, non sono altro che associazioni, forme associative dei medici di medicina generale che concorrono a coprire una fascia oraria estesa nell'arco della giornata, che nel Lazio attualmente va dalle 10 alle 19, ma che noi spieghiamo possa arrivare dalle 8 alle 20, perché poi successivamente alle 20 c'è la continuità assistenziale ex guardia medica, che ruotano, diciamo, intorno ad alcuni studi di riferimento. Lo studio di riferimento è il classico studio del medico di medicina generale opportunamente ampliato per poter ospitare un turnover maggiore di pazienti e anche di colleghi che vengono a compartecipare a questo turno che quindi, durante l'arco diurno, assicura sia gli interventi diagnostici che, per quello che è possibile, la prescrizione di farmaci, interventi terapeutici. Quanti sono, diciamo, sono distribuiti nella città? Ce ne sono diversi? Ma ce ne sono tanti, perché lei consideri che sono mediamente costituiti da medici fino a 12-13 medici consorziati intorno a uno studio unico di riferimento e quindi è veramente difficile, nell'arco diurno, andare lì e non trovare nessuno, trovare lo studio chiuso e quindi dover pensare di rivolgersi... Questo nell'arco della settimana? Sì, questo da lunedì al venerdì. Se uno ha necessità nel weekend, che cosa accade? Se uno ha necessità nel weekend, questi esistono nella regione Lazio, ormai da circa due anni, di ACP, che sono invece ambulatori di cure primarie. Questi ambulatori sono uno per distretto e poi sono presenti anche nella provincia di Roma e in altre province del Lazio. Sono generalmente presso sedi ASL, potremmo dire quelle che sono destinate a diventare le future case della salute, in alcuni casi già sono attive le case della salute, e fanno esattamente lo stesso orario delle UCP, ma nei fine settimana. Il cittadino dove si documenta e poi venga un momento a lei? Il cittadino si può documentare. Per quanto riguarda le UCP, intanto, al momento in cui sceglie il medico, può sapere perfettamente allo sportello se quel medico è dell'UCP. Se già fa parte di un medico che afferisce a un medico che precedentemente non era in UCP, lo sa dal suo medico perché lo trova affisso in studio. Quindi domandate ai vostri medici di base questo primo consiglio. L'ACP è dal distretto, sicuramente perché l'ACP è un'articolazione del distretto sanitario che è un'articolazione a sua volta dell'azienda sanitaria. Allora c'è stata descritta, dottor Corri, una situazione territoriale che in qualche modo dovrebbe alleviare il peso, le fatiche dei pronto soccorsi. Ecco perché usa il condizionale? Perché le case della salute del Lazio, anche se il nostro... Vediamo anche un po' in generale. Io le racconto il Lazio perché altre regioni funzionano, se vai in Emilia o in Toscana funzionano molto meglio. Ora poi non so la realtà di altre regioni, però io credo che, visto che siamo a Roma, le posso parlare del Lazio. Il Lazio, il nostro governatore, parla di case della salute funzionanti, che in ogni distretto c'è una casa della salute, questo non è vero. Perché la casa della salute dovrebbe essere un luogo dove ci sono gli ambulatori di tutti gli specialisti e ci dovrebbe essere una continuità assistenziale con i medici di famiglia. Questo è a macchia e leopardo, ce ne sono alcune che funzionano, ma pochissime rispetto alla totalità dei distretti del Lazio. E anche qui se ne parla da tempo, insomma, è da tempo in memore. Ma questa non è colpa né dei medici, né dei... Ma è colpa della... Di quella programmazione che fa la mamma. Perfetto, della programmazione e della burocrazia che in realtà... Gli strumenti ci sarebbero. Ma poi non realizza le cose. Andiamo dai nostri telespettatori, Simone. Eh sì, i nostri telespettatori sono particolarmente arrabbiati, devo dirlo. Ma no. Eh sì, purtroppo non avremo detto. Non siamo sorpresi, Simone. Vi segnalo in particolare Giulia che ci scrive dalla Lombardia e lei ci dice posso dire con certezza che anche nella mia ragione c'è il caos più totale. Ho visto medici curare pazienti stesi per terra perché non c'erano sufficienti posti letto. Pure in Lombardia. Anche in Lombardia. Quindi non è sorpreso per niente. Infatti lei conclude dicendo in questo l'Italia è uguale e il malcontento è generale. Però se ne parla soltanto quando succede in Campania, questa è un po' una cosa curiosa. E poi abbiamo anche su Twitter, su Twitter si scatenano devo dire, c'è in particolar modo una ragazza che ci dice avevo dei forti dolori alle articolazioni, mi sono rivolta all'ospedale più vicino e sono rimasta al pronto soccorso su una sedia a rotelle pensate dalle 14 a mezzanotte e mezza. Insomma devo dire un tempo piuttosto lungo. Poi c'è una domanda che ci arriva da Suora Alice, proprio pochi giorni fa ho sentito che hanno chiuso l'ultimo pronto soccorso attivo nel centro di Napoli, posso capire per quale motivo? E poi per finire vi dico che devo dire che purtroppo le lamentele più grandi sono quelle nei grandi centri e quindi anche negli ospedali più famosi se così vogliamo dire. In particolar modo abbiamo Mario da Roma e ci dice che a dicembre del 2016 il padre ha avuto dei forti dolori dal petto ed è rimasto in uno stanzone con 15 persone in attesa di un posto letto che arrivate dopo 5 giorni. Ecco Guglielmo, insomma un quadro di fortissimo affanno in cui questo diritto alla salute costituzionalmente garantito è un po' in bilico. Siamo con tempi strettissimi però un accenno va fatto a un passo, non so se avanti, indietro ce lo direte voi, insomma a quel disegno di legge sulla responsabilità dei medici che adesso dovrà andare al vaglio della Camera, è passato insomma in Senato e vedremo se diventerà definitivamente legge. Mi pare che sia stato tolto un po' di fardello dalle spalle dei medici perché c'era un eccesso di cause, un eccesso di medicina difensiva, però che cosa accade al diritto dei pazienti di ricevere la miglior cura possibile e di essere tutelati in caso di danni? Su questo disegno di legge sono critico fin dall'inizio, l'ho criticato adesso anche che è stato varato dal Senato, poi andremo a passare alla Camera. Perché è critico? Perché diciamo alleggerisce la responsabilità dei medici e scarica tutto sull'anello più debole della catena sanitaria che è il malato. Cohen forse non è d'accordo con lui. Non è assolutamente vero, il problema è che in Italia abbiamo per ora fino adesso una legge completamente iniqua perché l'unica figura professionale che deve dimostrare la propria innocenza in un qualunque, la propria buona condotta era il medico, nessun altro professionista. E' materiale per un'altra puntata, però. Ma spena verrà approvata la legge ci ritrovo qui a discutere. Andiamo per battute su un argomento che richiede una riflessione. E magari faremo una nuova puntata. Sì, però secondo me la nuova legge è già passata alla Camera una volta, poi è passata al Senato ed è tornata alla Camera, bisogna dire anche questo, che non è che adesso deve passare in seconda lettura alla Camera. E noi torneremo a interrogarci qui. C'è chi si è opposto, poche persone, qualcuno si è opposto. Non abbiamo la pretesa di comporre queste due posizioni in 40 secondi. Non fa nient'altro che secondo me garantire ancora di più il cittadino, perché il cittadino adesso, oggi, se uno leggesse quante cause fatte e intentate nei riguardi della malattia ne parleremo perché la questione è scottante. Allora, grazie a tutti i nostri ospiti. Ci avviciniamo, ci avviciniamo perché c'è un ospite d'eccezione. Oggi spalanchiamo. Ma un applauso, è con noi Cateri Cerelli. Ben arrivata. Che onore, che onore. Si mette da noi. Oggi in suonore apriamo il cassetto della memoria un po' prima. Saluto tutti perché era un argomento molto interessante, molto. Andiamo con le mamorie prima. Allora, noi parleremo di opera lirica tra pochissimo. Ma sì, ma guardi un po'. Le posso chiedere come è antipasto quando è nata questa passione in lei? Avevo, non vorrei girare la schiena ai signori. Avevo otto anni. Quindi, insomma, da bambina. E siccome mi vergognavo, indovendo un po' dove andavo a cantare. Andavo solo. Sugli alberi. Sugli alberi, quindi da sola. Perché avevo una voce, c'è un ottorino qua. Avevo una voce già da lirichetta, pure otto anni, no? E per me sembrava una cosa enorme. Credevo fosse una malattia. E allora mi vergognavo e andavo a nascondermi. Ma poi per fortuna sono arrivati mal coscienci. Bella malattia. C'è un personaggio negli anni a cui è più legato? Una trama? No, diciamo che poi le eroine nel melodramma muoiono sempre. No, onestamente. Sempre le donne si sacrificano per amore. Ma una trama che ama più delle altre è solo la traviata. No, accidenti, mi fai morire fisica, no. Però è splendida. Non è mica tanto, poveretta. Quindi la traviata no, non ce n'è una che proprio predilige. No. Va bene. Dopo magari... Approfondiamo, approfondiamo. Allora c'è un curiosito a sufficienza. Tra pochissimo qui siamo noi con Katia Ricciarelli. Tra pochissimo. Grazie. Mi avete una cosa a noi? Grazie.